Il portellone è motorizzato e può essere aperto o chiuso automaticamente tramite il comando sul quadro della strumentazione, il telecomando o il pulsante del portellone. Se necessario, una breve pressione su uno dei comandi consente di interrompere il movimento del portellone. Dopo aver interrotto il movimento del portellone, sarà possibile manovrarlo manualmente o riavviare il movimento motorizzato mediante la pressione di uno dei comandi. L'altezza massima di apertura del portellone è regolabile, pertanto il portellone si ferma automaticamente nella posizione scelta. Per procedere con la regolazione, Dopo aver sollevato il portellone, regolare manualmente l'altezza nella posizione desiderata. Memorizzare la posizione È possibile chiudere il portellone utilizzando i comandi già elencati. Il pulsante di chiusura è posizionato nella parte inferiore del portellone. Il pulsante di chiusura è posizionato nella parte inferiore del portellone.